Con Marco Gatti, socio del Piacenza Calcio con delega all'area sportiva, presentazione del nuovo direttore sportivo Alessio Sestu, del nuovo allenatore Massimo Maccarone, più l'entusiasmo di questo inizio di stagione o l'amarezza del fatto che probabilmente al 99,9% il Piacenza non potrà disputare il campionato di Serie C ma giocherà una D da protagonista. Sicuramente dopo le comunicazioni di venerdì scorso qualche speranza ce l'avevamo fatta. Oggi è arrivata la sentenza, adesso dobbiamo lavorare per il campionato di Serie D e ci aspetta un campionato importante dove abbiamo solo un risultato, quello di vincerlo e faremo di tutto per riuscire a raggiungere l'obiettivo. Ha detto che Alessio Sestu al secondo anno da direttore sportivo dopo una gloriosa carriera da calciatore che ha disputato anche a Piacenza e Massimo Maccarone come allenatore anche egli al secondo anno sono le persone giuste naturalmente poi al campo la sentenza. La mia sensazione è quella, Alessio l'ho voluto fortemente, in questi anni ci siamo sempre sentiti, è una persona che ho sempre stimato per la professionalità che aveva come calciatore e che sicuramente mantiene come dirigente sportivo. Maccarone non lo conoscevo, sono sempre stato un suo fan da calciatore, l'ho conosciuto, l'ho apprezzato e mi ha dato veramente queste sensazioni positive e il mio fiuto dice che abbiamo fatto le scelte giuste. Poi sarà il campo dire se ho ragione o no. Ultima cosa rivolta ai tifosi che anche oggi sono venuti in qualche modo a sostenervi per ragioni burocratiche non si possono ancora ufficializzare ma il Piacenza ha già praticamente chiuso. Diversi acquisti di grande qualità. Sì, logicamente non ci siamo fatti trovare impreparati, abbiamo comunque già allestito una squadra importante da ultimare perché non sapevamo ancora esattamente se c'era il ripescaggio o no. Oggi abbiamo saputo che il nostro campionato prossimo sarà la Serie D per cui completeremo l'organigramma che manca e cercheremo al 24 quando inizierà la nuova stagione e la preparazione di cercare di avere praticamente l'organico fatto.